Angelo, qui c'è l'incarico di vendita, ve lo metto nella nostra cartellina. Perfetto, io la ringrazio. Ci vediamo giorno dell'open house, mi raccomando, casa in ordine perfettiva. Senz'altro, senz'altro. Arrivederci Fabio, grazie. Arrivederci, arrivederci. Fabio, fate una domanda, ma l'open house funziona? Angelo, ti rispondo con questa foto. Puoi notare l'evidente sconforto di Nicoletta e Paolo. Sono disperati per avermi scelto come loro consulente di parte per la vendita in open house della loro casa in via del Mazzasco. Tempo di vendita? 59 giorni. Prezzo richiesto? 215.000 euro. Vendita conclusa a 215.000 euro. Sì, prezzo pieno. Perché funziona l'open house? Angelo, per quattro motivi. 1. Prezzo di vendita, corrispondente al valore reale e quindi competitivo. 2. Marketing preventivo, online, inserzione ad occhio per attirare l'attenzione, video sponsorizzato nei canali giusti. 3. Offline, volantino da distribuire delle cassette dei palazzi giusti in zona e nei negozi. Ed anche la brochure che abbiamo consegnato all'open house. 3. Tempismo. Perché bisogna scegliere il giorno e l'orario giusto. Per via del Mazzasco abbiamo scelto un mercoledì pomeriggio con un orario pomeridiano, dalle 16.30 alle 19.30. Perché? Perché eravamo all'inizio del mese di luglio, che faceva molto caldo, erano delle bellissime giornate, le scuole erano finite, ma le famiglie genovesi in estate vanno al mare. Quindi quello era l'orario giusto. Ed anche da segnalare che la casa era tutta esposta a ponente, quindi le ore pomeridiane erano quelle più azzeccate per far entrare bene tutta la luce in tutta la casa. 4. La sana competizione. Avendo poco tempo a disposizione, molte visite si sovrappongono. E questo dà modo agli aspiranti e clienti di vedere il reale interesse che anche altre persone hanno verso la stessa casa. Questo crea una sana competizione e senso di urgenza, che accelera i tempi per le proposte di acquisto. Via del Mazzasco l'abbiamo messo in pubblicità il 6 luglio e venduto il 3 settembre. I fatti rispondono alla domanda di Angelo. Anche tu hai una casa da vendere e la vuoi vendere in tempi brevi, a prezzo pieno, senza perdite di tempo? Beh, l'Open House fa il caso tuo. Contattami. Sono Fabio Burlando, consulente immobiliare di Genova. Contattami. 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 Contattami.